Vi presentiamo la nostra rivisitazione dell'Apfel Strudel. Versiamo la nostra base artigianale per un quantitativo pari ai chili di gelato che vogliamo ottenere. Dopodiché aggiungiamo aroma di rum e cannella. Nella base versiamo anche un quantitativo minimo di pasta sfogliatine. Mescoliamo il tutto e lo versiamo in macchina. Ora siamo pronti a mantecare. Nel frattempo prepariamo la variegatura scolando l'uva passa messa a mollo precedentemente in sciroppo e rum. Prepariamo in un'altra vaschetta la granella di noci e i pinoli per un tocco di croccantezza. Prendiamo il variegato di melicotta al forno al quale aggiungiamo l'uva passa scolata, mescoliamo il tutto e ci prepariamo all'estrazione del gelato. Ecco che la nostra devistazione è quasi pronta. Per finire aggiungiamo come decorazione un filo di pangrattato e della sfoglia croccante. Questo è il nostro Opsel Strudel.